I superpoteri non si trovano solo nei film, ma anche nelle persone comuni intorno a noi, che li vivono come parte della loro quotidianità. È sorprendente vedere come riescano a fare cose che la scienza non può spiegare, lasciandoci meravigliati mentre superano i limiti della fisica con le loro abilità uniche. Ecco dieci persone che sfidano tutte le leggi della fisica. Numero 10. I salti Masai. I guerrieri Masai sono noti per la loro straordinaria capacità di salto. Questi membri della tribù possono saltare fino a un metro in altezza senza aiuto esterno, una misura tre volte superiore rispetto al salto medio di una persona. Conosciuti anche come Morans, dimostrano forza e agilità durante le cerimonie tradizionali, dove eseguono salti ripetitivi accompagnati da canti e cori che possono durare ore. La loro tecnica di salto è unica. Si accovacciano e poi si lanciano verso l'alto usando solo la potenza delle gambe. Questa pratica combina forza, equilibrio e coordinazione. Le braccia fungono da contrappeso, aiutandoli a mantenere la stabilità e a saltare ancora più in alto. Osservare i loro impressionanti salti verticali non solo mette in luce le loro capacità fisiche, ma sottolinea anche l'importanza culturale di queste esibizioni all'interno della comunità Masai. Numero 9. Chef indiano con mani magiche. Il ristorante Ganesh e Deli è diventato famoso per la sua cucina eccezionale, grazie anche al suo chef di 65 anni, noto per la sua audace tecnica di estrarre il pesce fritto dall'olio bollente a mani nude. Questo gesto, inizialmente un esperimento, è diventato il suo tratto distintivo, distinguendolo dagli altri cuochi. Sorprendentemente, non si scotta più e non si ustiona, nonostante l'olio sia riscaldato a 200 gradi. Questa tecnica audace è ormai una parte della sua routine e la considera un'esperienza unica. Grazie a questo metodo insolito, ha acquisito una reputazione tra gli appassionati di gastronomia. Il ristorante è stato tramandato di generazione in generazione e ora i suoi due figli sono responsabili, continuando la tradizione familiare. Con un metodo di cucina così straordinario e una lunga storia alle spalle, Ganesh è un luogo da provare per il suo cibo prelibato e le straordinarie abilità del suo chef. Numero 8. Il sussurratore di leoni. Kevin Richardson, noto come il sussurratore di leoni, ha un talento unico nel comunicare con i grandi felini, come ghepardi e leoni. Nato l'8 ottobre 1974 a Johannesburg, in Sudafrica, ha mostrato un amore per gli animali sin da giovane. Cresciuto vicino a un parco per leoni, ha sviluppato una forte amicizia con il proprietario, il che egli ha permesso di trascorrere del tempo con animali in riabilitazione. Successivamente ha gestito il Kingdom of White Lion, una struttura dove si occupava di più di 26 leoni, insieme a iene, leopardi e altri animali locali. Nel 2013 ha raccolto abbastanza fondi per creare il Kevin Richardson Wildlife Sanctuary. Il suo legame con i leoni è eccezionale. Li abbraccia e li coccola, stabilendo una connessione unica e profonda. Questo tipo di rapporto è raro e, ovviamente, pericoloso, ma la connessione di Kevin con questi animali maestosi è veramente straordinaria. Numero 7. Il re dei denti Quest'uomo ha impressionato tutti con una straordinaria dimostrazione di forza, riuscendo a trainare un treno di 328 tonnellate per 3 metri utilizzando solo i denti. Questo incredibile record mondiale per il peso più pesante mai trainato con i denti ha suscitato l'entusiasmo e l'ammirazione del pubblico. Durante la prova aveva una corda di acciaio rivettata in bocca e utilizzava i binari per sostenersi. Con i piedi appoggiati su travi di legno, si spingeva indietro mentre stringeva la corda con i denti. Questo spettacolo ha messo in evidenza la forza e la determinazione straordinarie dello spirito umano. L'uomo attribuisce la sua forza a una tecnica di meditazione indiana antica che ha praticato per anni. Questa pratica non solo ha contribuito a sviluppare la sua forza fisica, ma lo ha anche mantenuto mentalmente ed emotivamente equilibrato. Numero 6. L'uomo batteria Biba Struya Conosciuto come l'uomo batteria, ha conquistato ammirazione per la sua straordinaria capacità di sopportare pericolosi livelli di elettricità senza subire danni. È come un conduttore umano in grado di resistere a scosse di milioni di volt, una cosa che sarebbe fatale per chiunque altro. Nel 1983 ha stabilito il suo primo record mondiale di Guinness, riuscendo a sopportare 20.000 volt senza riportare alcun danno. Nel 2003 è diventato anche il più veloce nel riscaldare una tazza d'acqua, impiegando solo un minuto e 37 secondi grazie alle sue capacità elettriche. Vive come un elettrodo umano, sorprendendo chiunque con il suo talento unico. Inoltre, insieme alla sua famiglia, esegue imprese ad alta tensione e gestisce una clinica di elettroterapia a casa, dove tratta persone con condizioni come l'artrite semplicemente toccandole con le mani cariche di elettricità. È davvero straordinario vedere una persona con un talento così raro e speciale. Numero 5 La ragazza con visione a raggi X A dieci anni, Natasha Demnicka ha affermato di poter vedere dentro il corpo umano. Inizialmente considerata fantasiosa, si è poi dimostrato che le sue affermazioni erano vere. La sua prima esperienza è stata vedere gli organi di sua madre e descrivere ciò che osservava. Con il tempo, le sue capacità sono migliorate fino a permetterle di vedere a livello cellulare. Questo ha fatto sì che molte persone iniziassero a fidarsi dei suoi giudizi medici più che di quelli dei professionisti. Dopo aver attirato l'attenzione online, Natasha è stata invitata a uno show britannico dove ha diagnosticato emicranie, endometriosi e difetti cardiaci con precisione. Alcune delle sue diagnosi però non sono state confermate dai medici. Alcuni ritengono che abbia poteri psichici, mentre altri pensano che legga segni esterni delle malattie. La sua abilità nel rilevare condizioni mediche è indubbiamente impressionante. Numero 4 Il calcolatore umano Scott Flansburg, conosciuto come il calcolatore umano, ha raggiunto il Guinness dei primati per la sua straordinaria abilità nei calcoli mentali. È capace di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e persino calcolare radici quadrate e cubiche di qualsiasi numero istantaneamente. Ha battuto record aggiungendo lo stesso numero a se stesso più volte in soli 15 secondi, superando qualsiasi calcolatrice. Nel 1999 ha anche creato un calendario unico per il calcolatore umano, utilizzando lo zero come giorno, mese e anno. Durante il giorno lavora come educatore e di notte è una personalità dei media, aiutando le persone a migliorare le loro abilità di calcolo mentale. Numero 3 L'uomo con la pelle più elastica Gary Turner soffre di una rara condizione chiamata Ehlers-Danlos che influisce sui tessuti connettivi del suo corpo. Questa condizione rende la sua pelle estremamente elastica e allungabile, può estenderla fino a 15 centimetri sullo stomaco. Sebbene la pelle di Gary sia molto elastica in molte aree del corpo, come l'addome, il collo e le braccia, le sue mani e i suoi piedi non presentano la stessa elasticità. Questa caratteristica unica gli ha valso un posto nel Guinness dei primati. Tuttavia, la sindrome di Ehlers-Danlos presenta anche delle difficoltà. Oltre a influenzare la pelle, colpisce i legamenti e gli organi interni e può causare dolore. Non esiste una cura per questa sindrome e nei casi gravi può portare a complicazioni potenzialmente pericolose. Il caso di Gary mette in luce le complessità delle condizioni mediche e l'importanza di sostenere chi ne è affetto. Numero 2 L'uomo magnetico Liu Lin, noto come uomo magnetico, proviene dalla Malesia ed è famoso per la sua straordinaria capacità di attaccare oggetti metallici al suo corpo grazie al magnetismo. Può mantenere oggetti fino a 2 kg ciascuno e un totale di 36 kg. Mostra la sua forza anche trainando un'auto con questa abilità. Gli scienziati dell'Università Tecnologica della Malesia hanno scoperto che, contrariamente a quanto si pensava, Liu Lin non possiede un campo magnetico naturale. La sua pelle ha un alto livello di attrito che crea un effetto di aspirazione permettendo agli oggetti di aderire. Questa capacità è genetica e si è trasmessa al figlio e ai tre nipoti. Grazie a questo talento eccezionale è entrato nel libro dei record della Malesia e partecipa attivamente a eventi di beneficenza contribuendo al benessere della comunità. Numero 1 L'artista con memoria fotografica Stephen Wiltshire, un artista britannico di grande successo, ha un dono eccezionale per il disegno e la pittura. La sua carriera artistica è cominciata da giovane dopo che fu diagnosticato con autismo all'età di tre anni e non parlava fino ai cinque. Fu sua sorella maggiore, Annette, a riconoscere il suo talento e a portarlo a vedere il panorama dalla finestra di un appartamento al quattordicesimo piano. Da quel momento sviluppò una forte passione per il design e il disegno di edifici e luoghi famosi che è continuata a crescere. Oggi Stephen è uno dei più noti artisti britannici e la sua storia ispira persone in tutto il mondo. La sua memoria fotografica è straordinaria, riesce a catturare e riprodurre dettagli con una precisione impressionante semplicemente osservando, rendendo il suo talento davvero straordinario e affascinante. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!